Buonasera a tutti, dichiaro ufficialmente aperta la seconda edizione di Invasioni Contemporane, il festival di rigenerazione creativa che è stato realizzato per la prima volta stesso anno nelle aree del Piceno colpite dal terremoto del 2016. Prima di entrare nel vivo del festival mi piaceva presentarvi i nostri compagni di viaggio. Sono in diretta collegate con noi Ludovica, Laura e Giulia di Metting Pro. C'è anche Martina che è la nostra new entry che ci ha dato una grande mano per l'organizzazione di questa seconda edizione che terrà sotto controllo eventuali domande, sollecitazioni o stimoli che proverranno dal popolo della rete, anzi vi sollecitiamo appunto nel mettervi in contatto con noi. Poi accanto a me è Cristina di Living, altro partner di Invasioni Contemporane, c'è una finestrina nera ed è Andrea Angelini che ha realizzato il visual del festival e che ci sta dando una mano nella regia. Andrea vuoi apparire un attimo? Cristina saluta anche tu. Ciao a tutti. Eccolo, meno male che c'è Andrea e poi c'è Silvia di The Floyd è qui con noi. Ciao a tutti. Altro partner di Invasioni. Poi insomma ci conosceremo meglio strada facendo e intanto volevo dirvi due parole rapidissime sul festival. Che cos'è Invasioni Contemporane? Innanzitutto è stato un progetto bellissimo, molto profondo, a cui siamo veramente tanto legate. Ed è un progetto di rigenerazione creativa che utilizza l'arte e i linguaggi espressivi contemporanei come strumenti di rigenerazione delle aree interne. Diciamo che Invasioni, la sua caratteristica è che è un festival estremamente partecipativo e aperto e che punta molto sul coinvolgimento degli artisti e sulla relazione che gli artisti possano avere con le comunità territoriali, quindi con i cittadini. Invasioni nasce diciamo sulla sull'esperienza di un format che come Melting Pro abbiamo messo a punto e che stiamo sperimentando in vari contesti territoriali, sia nazionali che internazionali e attraverso varie discipline artistiche. Questa volta ad esempio abbiamo utilizzato per Invasioni Contemporane le Performing Arts come forma espressiva, quindi la disciplina del teatro danza, quella della musica contemporanea e quella del Light in Design. Ma di volta in volta i linguaggi che si possono applicare sono i più diversificati. Come funziona questo format di rigenerazione creativa? È un processo innanzitutto e ci piace chiamarlo così. È un processo che si compone sostanzialmente di tre fasi. Una prima fase è di esplorazione territoriale, ovvero con gli artisti andiamo ad esplorare il territorio affinché possano entrare in qualche modo in relazione non solo con gli spazi fisici dei luoghi ma soprattutto con le comunità territoriali. C'è poi tutta una parte immersiva di residenza artistica in cui appunto i creativi passano tanto tempo e il tempo è un elemento essenziale nei territori, quindi a contatto con le comunità e qui accade una magia, accade una cosa bellissima che è esattamente la coideazione artistica, ovvero molto spesso gli artisti vanno sui territori con un'idea preconcetta dopo la fase esplorativa di quella che è la performance che vogliono realizzare, e molto spesso la rimettono in discussione dopo aver proprio parlato con i cittadini, parlato con le persone che incontrano nella loro residenza. L'ultima fase è quella della produzione artistica site specific, ovvero della realizzazione di opere e di performance che diciamo in qualche modo valorizzano quel territorio specifico e che racchiudono l'identità di quel territorio e soprattutto tutte le lettore e le relazioni che gli artisti hanno in qualche modo instaurato con le persone. Quindi quelle opere sono importanti e hanno senso proprio perché sono fisicamente lì in quei luoghi, probabilmente trasportate altrove non avrebbero la stessa significazione che invece hanno per quei territori. Diciamo che l'anno scorso nella prima edizione sono stati coinvolti cinque comuni delle aree interne del Piceno, ovvero Arquata del Tronto, Acqua Santa Terme, Montegallo, Castignano e Offida. Sono dei paesi meravigliosi che però appunto dopo il 2016 hanno vissuto davvero un grande trauma derivante dal sisma che ha devastato in maniera più o meno prorompente queste aree e che oggi si trovano tra l'altro a vivere una doppia criticità che è dovuta anche all'emergenza pandemica che stiamo tutti vivendo. Vedremo insieme le performance meravigliose che sono state realizzate lo scorso anno con tutta una serie di video che ve le racconteranno meglio di come potremmo fare noi. Quest'anno invece non c'è stato possibile appunto per via dell'emergenza sanitaria essere nuovamente presenti lì ma il senso di questa seconda edizione digitale è proprio questo cioè dire a quei territori che noi ci siamo che il festival c'è che ci siamo davvero affezionati a loro alle comunità che abbiamo incontrato che sono state aperte davvero meravigliose con noi e con gli artisti e molto ispiranti tra l'altro e quindi ci piaceva in qualche modo donare una seconda edizione anche se con questa forma è un pochettino diciamo alternativa rispetto a quella dello scorso anno e comunque ugualmente significativa nella presenza è proprio una cosa che mi fa piacere raccontare prima di diciamo mandare in onda il primo video è proprio questo questo dono che è un pensiero che noi abbiamo avuto per loro ma che tutte le persone che abbiamo coinvolto quindi amici esperti creativi hanno hanno avuto allo stesso modo e quindi c'è stata una specie di contagio del dono in modo veramente molto positivo e lo vedremo nel corso appunto delle invasioni 2020. Non è un caso che apriamo e mandiamo in onda il primo video con Luciano Zanin che è l'amministratore delegato di un'organizzazione che si chiama fundraiser per passione e che ci parla proprio del valore del dono. Buona visione. Il dono in un momento come questo ha un valore che è assolutamente sotto gli occhi di tutti. Abbiamo poi visto abbiamo visto negli ultimi mesi come l'unica cosa che ha tenuto che ha tenuto insieme le nostre comunità è stato il dono. Nel periodo duro del covid quindi il periodo lockdown tra marzo e aprile quando lo stato insomma si è un po' impallato rispetto anche al sistema sanitario ma non solo quando l'economia si è fermata a causa appunto del lockdown che cosa ha tenuto insieme le nostre comunità? Che cosa ha fatto sì che le persone hanno continuato a relazionarsi tra di loro e non ha fatto a far sentire soli le persone? È il dono. È l'unica cosa che ha continuato a funzionare e continua a funzionare e una delle cose più donate lo vediamo anche in occasione del festival delle invasioni 2020 e 2019 che cos'è? È l'arte, è la cultura, è la conoscenza. Questa è la cosa più donata in assoluto. C'è un esempio che mi piace molto fare rispetto a questo discorso del dono che è l'esempio di quando si va a teatro e si assiste alla performance. È vero si paga il biglietto però in teoria il rapporto che si ha con l'attore o con la compagnia che sta sul palco dovrebbe finire nel momento in cui io ho comprato il biglietto, l'attore ha fatto la sua performance finito e invece che cosa succede? Succede che c'è una cosa in più che è l'applauso, ci si pensa poco, dall'altra parte spesso c'è un ritorno su questo applauso che è un bis e c'è di nuovo un altro applauso ed è così che si stabilisce una relazione ed è così che il pubblico entra in relazione con l'artista, con gli artisti e lì si vede la potenza del dono che costruisce relazioni non solo in quel momento ma costruisce relazioni che fanno sì che poi quella cosa continua perché quando le persone vedranno un altro cartellone con la stessa compagnia o qualcos'altro che gli ricorderà quell'artista o che ne parleranno con altri. La potenza del dono è proprio qui, il dono funziona quando tutto sembra non funzionare e funziona comunque a prescindere da tutto perché se un donatore vuole donare non c'è niente che gli impedirà di farlo, questo noi dobbiamo davvero rivalutarlo questo strumento perché tiene insieme le nostre comunità e dà senso alla vita delle persone. Ringraziamo tanto Luciano, ora vi abbiamo raccontato il Festival Invasioni Contemporane dal nostro punto di vista di project manager, invece ci piaceva farvelo raccontare direttamente dagli artisti che hanno vissuto insieme a noi l'esperienza di Invasioni Contemporane 2019, quindi vediamo insieme il video. Invasioni Contemporane è... Direi innanzitutto che è una sfida. Che è una sfida, sfida, sfida. Invasioni Contemporane è un progetto stupendo che nasce in dei territori in difficoltà, portare i linguaggi della contemporaneità, delle arti contemporanee della provincia di Ascoli Piceno e la speranza, accoglienza, condivisione, comunità, l'autenticità, complesso, permeabilità, contaminazione, ruvidezza, resistenza, restanza, forte, forte, ti dà la possibilità di vivere e poi... Beh, però che figliata sti immagini! Wuhuuuhuuu! Sto il caschettino! Esatto, questa è un'invasione contemporanea perché succede adesso e quindi è estremamente contemporanea. Un'invasione pacifica, diciamo. È stata un'invasione al contrario, questi luoghi e le persone che li abitano mi hanno totalmente invasa. È incontrare tante persone che si fanno un quattro per aiutarti. Cercare di entrare piano piano dentro questo tessuto sociale. Lo strato dell'arte che calza con lo strato del territorio e lì si formano degli interociche. Il farsi contaminare, quindi toccare, come per osmosi. Questa cosa però ti mette in una situazione fragile, proprio come lo sono certi territori. L'arte può incidere sulla fragilità dei territori. A patto che quest'arte sia onesta. Ma credo che anche sia in qualche modo un dovere dell'arte. La ricostruzione artistica può essere una soluzione per rendere infrangibile un territorio. Se fornisce a chi vive quelle fragilità un punto di vista inaspettato. E le persone che si possono trovare in una situazione di fragilità, anche loro devono ingegnarsi e la creatività fa bene a tutti, tirarla fuori. Ciao, sono Lola. Lo vedete, ma lo vedete più. Questo era il finale del video. Grazie ai ragazzi, agli artisti del 2019, che anche quest'anno hanno lasciato una traccia artistica del loro passaggio sui territori. Ve la raccontiamo e ve la facciamo vedere più tardi. Nel frattempo iniziamo la nostra passeggiata digitale per esplorare, questa volta appunto in digitale, questi territori. Iniziamo, intanto contestualizziamoci, iniziamo il primo intervento da Ascoli Piceno, che è la città capoluogo di provincia, che appunto ha sostenuto e sostiene il festival. Iniziamo proprio con i saluti istituzionali del sindaco Marco Fioravanti, dell'assessore alla cultura Donatella Ferretti e del professore Stefano Patetti, che fanno l'in bocca al lugo al festival. Partiamo con il video. Invasioni contemporanee, noi ci auguriamo che queste invasioni continuino, sia in presenza che virtualmente, come quest'anno che il Covid ci costringe a restare isolati nei laboratori, negli studi, a non poter realizzare gli incontri che invece in passato si sono potuti attuare nei centri colpiti dal sisma, dove la stessa popolazione partecipe di quanto avveniva da parte di giovani artisti, ha compreso insomma che non tutto era perduto. Dobbiamo continuare quindi in questa direzione, sia pure quest'anno in edizione virtuale, perché da una disgrazia, come è stato il terremoto e come è stata anche quella più recente, determinata dalla pandemia, possono svilupparsi delle risorse creative straordinarie. E certamente tutto ci porta a meditare maggiormente su una necessità di riflettere, di procedere con lentezza, quindi le invasioni ci saranno, ma saranno invasioni più lente, più pensate, più ponderate, tutto questo ha vantaggio dell'arte e della creatività. Quindi buon inizio per questa edizione virtuale delle invasioni contemporanee. Del resto i social media consentono alle invasioni di essere più capillari, di raggiungere magari persone che questi luoghi non conoscono e quindi può essere un'ottima occasione anche per diffondere la conoscenza di centri marginali e marginati finora, che grazie appunto a questa edizione virtuale potranno trovare il loro spazio nel mondo dell'arte. Torna Invasioni Contemporanee, un'iniziativa dove mettiamo al centro la creatività, la creatività di giovani artisti che attraverso le loro performance danno luce e speranza a territori che hanno subito il sisma e che hanno la voglia di ripartire. Oggi più che mai Ascoli si vuole collegare con le aree interne e le aree montane per attraversare una fase di rinascita con una grande sfida, quella di far ripartire l'Italia attraverso l'arte, la creatività e soprattutto la forza delle aree interne. Invasioni Contemporanee, un saluto da Ascoli, invasioni positive, invasioni di arte, di sperimentazione, di innovazione su dei territori che hanno una forte caratterizzazione storica, tradizionale e quindi una bella commissione, una bella contaminazione tra passato e futuro, una bella commissione di arti, di suggestioni, di linguaggi. Quindi evviva le invasioni positive, evviva le invasioni contemporanee e evviva il futuro. Buon lavoro. Eccoci tornati. Allora, contestualizziamoli. Noi siamo oggi fisicamente all'interno di uno spazio rigenerato. Rigenerato anche grazie a invasioni, attraverso il finanziamento della Fondazione Casa di Risparmio di Ascoli Piceno, che ringraziamo ancora, e in precedenza attraverso il finanziamento del Lanci e della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Questo spazio è stata, diciamo, una sperimentazione, diciamo, la rigenerazione di questo spazio è stata una sperimentazione molto interessante per noi, perché un po' da qui è partito tutto. E ringraziamo gli studenti, gli scenografi dell'Accademia di Belle Arti di Macerata, capitanati dal professore Enrico Cursoni, per aver appunto costruito, rifunzionalizzato questa struttura, che è diventata la cabina di regia del Festival e di tanti altri progetti. Anche dietro di noi. Esatto, quindi ci piaceva farvi vedere proprio l'atto rigenerativo e fisico dei nostri scenografi con il prossimo video. Grazie. 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 di nome Andrea Giancarli che è stato un po' l'occhio del festival in tutta la scorsa edizione anche quest'anno poi vedremo un video inedito per il 2020 realizzato proprio da lui proseguiamo la nostra esplorazione, andiamo questa volta ad Acquata che diciamo è un po' il luogo simbolo di questi territori proprio perché è stata abbastanza duramente colpita dal terremoto ma i suoi cittadini sono veramente resilienti, hanno una grandissima forza e tenacia ci racconta Laura la passeggiata digitale di Acquata Sì, eccomi qua, allora continuiamo questa esplorazione digitale del Piceno da Acquata del Tronto che diciamo è un po' diventato il simbolo dei territori colpiti dal terremoto perché particolarmente danneggiata ma è anche diventata il simbolo un po' della forza della resilienza dei suoi cittadini che lottano per garantire, per creare un nuovo futuro per il loro piccolo borgo quello che ha chieduto l'anno scorso nel corso di Invasioni 2019 è piuttosto difficile da raccontare a parole quindi facciamo nuovamente affidamento alle immagini e ai video realizzati da Andrea Giancarli per raccontarvi quella che è stata la nostra esperienza l'anno scorso ad Acquata e le performance degli artisti che hanno lavorato su quei territori a darci il benvenuto anche in apertura il vice sindaco di Acquata Michele Franchi che anche quest'anno ha rivolto un saluto al festival e un in bocca al lupo a tutti noi Salve a tutti, vi ringrazio ancora per aver pensato con lo scorso anno e anche quest'anno a noi di Acquata e del Tronto per l'ennesima edizione di Invasione Contemporane sappiamo benissimo che quest'anno non possiamo fare per ovvi motivi di restrizioni Covid quello che è stato fatto lo scorso anno nei nostri borghi è stato qualcosa di unico nelle rappresentazioni sia a Borgo ed Acquata di questi artisti che hanno dato l'ustra al nostro territorio del territorio marchigiano, della provincia di Ascoli e del Catere è bello andare avanti in uno stand di difficoltà quindi ci fa piacere che si porti avanti ancora un'altra edizione e per noi è fondamentale andare avanti con questo progetto quindi sono convinto che anche quest'anno in maniera online, sulla piattaforma e tutto farete un ottimo lavoro che sarà anche per prepararsi per i futuri impegni non dimenticateci, noi saremo sempre al vostro fianco perché una mano ce l'avete data e perché no, nelle prossime edizioni potremo riportare qualsiasi altra tipologia di arte qui ad Arquata perché devo dire che è stata una manifestazione che ha ottenuto tantissimo successo quindi grazie ancora, grazie davvero di cuore un abbraccio ad Arquata del Tronto Arquata non so da dove cominciare perché non so neanche quello che dovrei dire Arquata è casa semplicemente che cosa ci fate qui? questa è la domanda che tutti ci fanno siamo qui per raccontare questo posto iniziamo con quello che sappiamo fare le interviste è stata sempre una chiacchierata intorno a un tavolo di solito ha più voci sì non conosciamo Arquata ce la racconti? le immagini ci sono arrivate attraverso le loro parole attraverso di loro è un posto tranquillo immerso nel verde è l'unico comune d'Europa racchiuso tra due parchi nazionali terra di confine terra di briganti terra di sibille e saliamo perché Arquata è la montagna la sensazione più bella è dal monte Vettore sulla cima ti senti libero ti rilassa ti calma sembra disegnata sembra una cartolina il mio luogo ideale è tutto il comune tutte le frazioni ogni frazione è la sua tradizione la tradizione della regina Giovanna la festa bella di Speronga Arquata è un'amicizia Arquata è la prima sbornia Arquata sono le feste per stare insieme conoscere qualcuno una sera e dopo 48 ore sia fratelli Arquata è andare alla posta incontri l'impiegato Andrea che curioso ti chiede che cosa ci fai poi lui ti dice che qui la gente è accogliente che finiremo sicuramente a cena a casa di qualcuno poi quella sera incontri la sua compagna Emily che ti invita a cena a casa sua ed è l'impiegato che quando ti vede arrivare ti dice certo che siete sfacciate ma prendete proprio le cose alla lettera giante di montagna dura ma allo stesso tempo così morbida la figura di questa persona che va in giro con una pistola puntata a catturare cose è stata un po' assimilata mi ha reso appunto parte del paesaggio ho raccolto i suoni caratteristici suoni umani, suoni naturali tutto è diventato poi materiale che ho rielaborato mi ha reso appunto parte del paesaggio io principalmente lavoro con la luce in questa occasione ho sperimentato una nuova tecnica che avevo già diciamo ad occhiato e che l'invasione contemporanea è stata poi l'occasione giusta per provarla appunto per sperimentarla e il senso era quello fondamentalmente dove prima c'era la vita ora sono le macerie noi cerchiamo di rievocare la vita dove oggi appunto ci sono le macerie e il senso è il senso desiderio è la forza che spinge verso l'alto la finalità del nostro lavoro è permetterci tutti quanti di sognare insieme e quindi il nostro lavoro si concluderà con i sogni di tutte le persone che abbiamo intervistato il mio sogno per questo posto è realizzabile come curata almeno a dettaglio che potrebbe essere il posto più bello e ci invitare un universo da scoprire veramente di bellezza, di poesia di forza le persone rispecchiano anche il luogo in cui abitano quindi questa forza deriva anche da questi elementi naturali che qui sono estremi ci hanno raccontato del vento che a volte qui è veramente forte fortissimo che ha piegato l'approccio sul vettore la forza della gente di montagna noi, gente di montagna non guardiamo mai in niente la forza di chi ha scelto di stare qui che ci sia nato o ci sia venuto i combattenti interni ed esterni il diritto di restare perché è questo posto di chi ci vuole vivere lavorare, amare di chi vuole lottare perché qui è difficile e di chi vuole resistere di chi vuole fare qualcosa per questo posto perché crede in un futuro qui perché non vuole che le decisioni vengano calate dall'alto per il tornaconto di poteri forti di chi vuole stare qui perché ama questi posti bellissimi di chi vuole farsi sentire noi non ci vogliamo adattare vivevamo in un paradiso e ci viviamo ancora Devo dire che ogni volta che rivedo questo video penso che è stata una figata incredibile è veramente il video che abbiamo sì devo dire che parlare dopo queste immagini è abbastanza difficile perché poi le emozioni anche dopo un anno sono talmente forti che veramente ti dà il senso di mesi di lavoro e dello sforzo collettivo che è stato fatto diciamo che gli artisti che ringrazio tantissimo hanno fatto un lavoro fantastico Sara, Elena, Luca, Daniele ci hanno raccontato Arquata del Tronto attraverso parole, suoni e luce quello che abbiamo visto nelle immagini e anche quello che si può vedere se si va su territori sul territorio arquatano può quasi dare l'impressione che il paese non ci sia più ma invece il paese c'è c'è nella forza di chi vive in quel luogo e chi lotta giornalmente per costruire un futuro per questo piccolo borgo e la partecipazione in tutte le performance che vedremo in corso di questo pomeriggio sempre sarà molto forte e c'è un motivo secondo me fondamentale perché tutte queste performance sono nate dalla relazione che gli artisti e che noi diciamo partner in un altro livello abbiamo instaurato con i territori e con le persone che vivono nelle zone del Piceno quindi sicuramente questo è un elemento di forza e poi in passione contemporanea in quanto contemporanea ha portato in questi luoghi anche nuovi linguaggi artistici che sicuramente hanno contribuito ad arricchire anche l'offerta culturale di queste aree dell'entroterra marchigiano e nel video Sara e Elena dicevano che uno degli obiettivi principali delle loro performance era quello di sognare insieme e questo è anche il motivo per cui siamo qui oggi testarde come gli arcuadani per continuare la nostra esplorazione per continuare le nostre invasioni e continuare a sognare e progettare insieme alle comunità a partire dai loro desideri e dai loro bisogni per creare un futuro diverso nuovo all'insegna anche dell'arte e della creatività e una diciamo delle novità di Inversioni Contemporanee quest'anno oltre all'essere in digitale anche quello di aver creato un pool chiamiamolo così di esperti professionisti del settore creativo e culturale per aprire una riflessione corale sulla rigenerazione delle aree interne attraverso l'arte e la creatività quindi nel corso di questo pomeriggio ascolteremo tante voci tanti input tante riflessioni interessanti relative ai temi ai temi del festival iniziamo anzi con il primo gruppo di esperti che ci aprirà appunto la prima riflessione sulle aree interne con a conclusione anche un piccolo intervento di Ion Arquatano quindi un cittadino che ha partecipato all'edizione del 2019 e quest'anno ha voluto donare un pensiero molto delicato anche al festival 2020 dobbiamo alimentare quelle tessere quelle scintille quelle cellule di creatività che stanno dentro potenti e sono quegli elementi che hanno consentito ai territori interni di sopravvivere al declino sopravvivere alle crisi ricorrenti certe volte anche immaginando delle soluzioni anticicliche che le hanno permesso di farle diventare dei laboratori ma contemporaneamente serve una creatività esterna ci dobbiamo mettere a servizio di un sistema più ampio di un sistema reticolare un sistema che è capace anche in alcuni casi di saltare i confini nazionali questo enorme patrimonio allora io immagino il futuro dei territori interni come un futuro fatto di interventi che permettano di riportare l'economia della creatività in questi luoghi ma capace anche di portare l'economia dei flussi e delle reti in questo servono politiche fiscali servono politiche infrastrutturali e poi serve una poterosa politica di trasformazione digitale che permetta a questa creatività di cominciare a entrare in sintonia di cominciare a entrare in risonanza superare la condizione della creatività individuale per aderire ad una potente creatività ecosistemica che può davvero essere di nuovo l'energia in questo caso energia pulita per il futuro dei territori interni credo che la sfida principale per chi lavora su territori fragili come quelli di invasioni contemporanee sia quella di rompere l'isolamento in cui questi territori spesso loro malgrado si trovano costretti rovesciando completamente la visione che vuole questi luoghi sempre periferie margini di qualcos'altro credo che un progetto artistico che faccia perno attorno alla dimensione territoriale e spaziale abbia la capacità di costruire dei ponti potenzialmente in grado di rompere questo isolamento e di innescare dei processi virtuosi in grado di riportare su questi territori nuovi sguardi che costruiscano assieme alle comunità di riferimento nuove ritualità e nuove narrazioni a muovere però da un'idea centrale cioè che questi territori non siano luoghi meramente di consumo di eventi di saperi o di tradizioni quanto piuttosto luoghi di produzione produzione culturale di innovazione sociale di nuovi modi di abitare l'ambiente e nuove forme di welfare creatività e cultura per la rigenerazione delle aree interne sono due temi diversi che però confluiscono in un unico disegno la creatività è quell'elemento che ci permette oggi di scartare di immaginare un futuro che è già predestinato nelle linee di fuga previste oggi dal nostro sistema economico sociale per le aree interne il 60% del paese migliaia di borghi di pietra al sud valli alpine ma alghe zone rurali per cui non c'è nessuna idea di futuro anzi non c'è nessuna possibilità di immaginare il futuro nel disegno nel secolo delle grandi città non c'è nessun futuro per queste aree l'unica possibilità è scartare scartare con un progetto visionario ecco la creatività è un elemento essenziale per promuovere una nuova visione di questi territori e la cultura è la cultura che ruolo ha la cultura nel disegno visionario deve essere inclusa come motore del disegno non può essere più a valle deve cambiare status non è più un elemento che si pone a valle di un processo di sviluppo o di ripopolamento o di un'area o di ripensamento o di un territorio o di rigenerazione anche di un solo edificio è inclusa nel disegno e molti soggetti già persone associazioni strutture imprese lavorano in questa direzione cioè lavorano perché la cultura sia un welfare sia un diritto di cittadinanza accessibile a tutti la creatività è una sperimentazione le aree interne sono lo spazio principe per sperimentare nuove soluzioni non solo culturali ma anche energetiche ambientali economiche per affrontare le sfide che si pongono oggi al mondo moderno non solo delle aree interne ma anche delle città le aree interne diventano quindi un grande spazio di sperimentazione dove cultura e creatività assumono un ruolo assolutamente centrale la prima edizione del festival invasioni contemporanee quella del 2019 ha rappresentato la risposta dell'arte e della creatività ad un evento disruptive che ha colpito un'area una parte geografica del nostro paese come il Piceno nel 2016 la edizione del 2020 di questo festival rappresenta la risposta ad un ulteriore evento disruptive che però ha avuto un impatto molto più ampio a livello globale come la pandemia di covid-19 anche in questo caso l'arte la cultura e la creatività attraverso su un canale diverso che è quello digitale sapranno rispondere alla sete di un pubblico di qualità che è assetato di scoperta dei territori dei luoghi anche meno conosciuti del nostro paese che assumeranno una rilevanza sempre maggiore in una fase in cui di fatto il turismo di massa è morto la morte è stata decretata dalla stessa pandemia di covid-19 quindi è sempre più necessario focalizzarsi attraverso iniziative di qualità sostenibili e partecipative proprio come il festival invasioni contemporanee sulla riscoperta dei territori delle aree interne dei borghi in definitiva dobbiamo essere capaci di trasformare una minaccia reale per il nostro sistema culturale turistico in un'opportunità e invasioni contemporanee a mio avviso opera proprio in questa direzione quindi buona fortuna in attesa poi dell'edizione del 2021 nella quale torneremo fisicamente a poter fruire di questi luoghi straordinari le aree interne come il Piceno e le piccole Dolomiti conservano paesaggi ricchi di storia e di natura che meritano di essere vissuti anche grazie a nuove forme di espressioni quale l'arte la musica il teatro che permettono di dare nuova luce a questi luoghi fondamentale però per rendere forte l'identità di un territorio è il coinvolgimento attivo delle persone dei componenti le comunità creare infatti progetti partecipativi permette di ampliare l'offerta il bagaglio culturale non solo delle comunità stesse ma anche di coloro che pongono le basi del progetto e di altri fruttori come i turisti territorio e comunità sono quindi due realtà fortemente legate l'una all'altra e creare progetti per loro e con loro è la carta vincente per mantenerli in vita l'arte rigenerativa ha una funzione importante se non è solo il risultato dell'azione pur importante degli artisti ma se è un elemento che concorre insieme alle comunità insieme alle associazioni che operano nei territori i curatori di arte pubblica concorre a restituire quel capitale di fiducia e soprattutto a ricostruire una speranza nel futuro di questi territori l'arte è bellezza e restituirla a queste popolazioni è un dovere credo per tutti noi e quindi grazie anche all'associazione Merting Pro per il lavoro che svolge io vedo molte analogie fra aree interne e periferie delle grandi città in questo contesto un elemento di condivisione molto forte lo vedo in una sorta di dualità che entrambe vivono questa dualità è dovuta a loro essere sospese tra una forza e una fragilità la fragilità è data da loro essere luoghi del margine e la forza data dal fatto che loro sono i luoghi dell'identità ecco questi due poli che sono in costante tensione sono secondo me uno degli elementi connotativi più interessanti delle aree interne come anche delle periferie delle grandi città ecco quindi la vera sfida che noi abbiamo davanti la vera sfida contemporanea che abbiamo davanti è quella di riuscire a costruire progetti culturali che sappiano dialogare con questa identità e quindi far scaturire per così dire da questo dialogo del valore aggiunto è l'unica sfida che credo possa essere raccolta se si vuole essere autenticamente contemporanei e si vuole fare veramente un lavoro che abbia un senso nelle aree interne per questo motivo le due parole che mi sento di lasciare in eredità per quanto possano valere sono la parola sorgivo e la parola non a caso tensione bocca al lupo che per loro arcuata come luogo di frontiera può e deve essere invaso da uno sviluppo culturale che solo un festival come invasioni contemporanee rappresenta sotto ogni aspetto augurandomi che la seconda edizione del festival rinnovi l'interesse che tutti noi popolo di montagna ma di raffinata comprensione abbiamo dimostrato non posso che ringraziare chi non da figlio naturale ma d'adozione ha reso nuovamente viva la nostra terra di frontiera sarà bello restare se come compagni avremo eventi e dialoghi culturali sarà bello tornare se le antiche leggi rinascimentali che tanto hanno reso famoso il nostro comune verranno accompagnati da nuove leggi artistiche internazionalmente vive come vivo è ancora il nostro interesse per la terra di frontiera arquatana allora io innanzitutto ringrazio tutti gli esperti che hanno donato a questo festival una riflessione delle considerazioni degli approfondimenti sono tutti elementi che ci aiuteranno a traghettare invasioni contemporanee 2020 nel 21 e ringrazio veramente anche e ovviamente Fabio il nostro cittadino resiliente e voglio inoltre sottolineare il fatto che tutti questi contributi video saranno disponibili sulle pagine di invasioni contemporanee ma anche sul sito web invasionicontemporanee.it in versione integrale abbiamo coinvolto tanti professionisti e purtroppo per esigenze di spazio digitale e di tempo abbiamo dovuto compattare i vari interventi ma saranno presto disponibili integralmente e ringraziandoli nuovamente passiamo adesso invece su un altro territorio siamo questa volta a Montegallo Montegallo è un altro comune del Piceno ed è un comune molto speciale a partire dalla sua con formazione geografica perché è costituito da 23 piccole frazioni che si estendono alle pendici del Montevettore e l'anno scorso per invasioni contemporanee 2019 siamo stati in particolar modo nella frazione di Balzo dove si sono poi verificate realizzate tutte le performance che gli artisti hanno inscenato e ancora una volta il racconto avverrà tramite le immagini realizzate da Andrea Giancarli e non faccio spoiler e quindi vi lascio alle sue alle sue immagini e ai suoi suoni ovviamente anche in questo caso ci sarà scusate un saluto istituzionale del vice sindaco Tiziano Pignoloni anche lui grande fan di invasioni contemporanee che ha mandato ci ha mandato un saluto allora diciamo l'invasione contemporanea è stata una manifestazione veramente che ha rimesso in luce e in vita una campana che è stata ferma dopo il terremoto e rimetterla e vederla di nuovo suonare per tutti i montegallesi ma non solo perché Sant'Avena in Pantano è una chiesa del Piceno quindi di vederla suonare di nuovo è stata un'emozione per tutti quanti è stata veramente una battaglia più che altro per rimetterla di nuovo in funzione perché non è stato molto facile attraverso il comune e la curia ma si sono riuscite perché la tenacia delle ragazze e diciamo tutto lo staff di invasioni non hanno mai mollato su questo e aspettiamo il prossimo anno di nuove iniziative e siamo qua noi siamo pronti diciamo stiamo lavorando per ripartire come sempre e aspettiamo insomma una nuova iniziativa da invasioni per il prossimo anno vi aspettiamo verdissima c'è tantissima natura io non mi rendevo conto di che polmone verde fosse racchiuso in tutta questa zona di Montegallo che poi dire Montegallo in realtà parliamo di 23 frazioni è come se ci fossero tante tante anche identità e ognuno di loro ha la domanda banale e sciocca perché resti qui mi dicevano guarda dove sono dove altro devo andare quindi c'è stato subito il rapporto tra la mia persona e le vie di questo paese e delle altre frazioni in giro e la prima cosa che catturava la mia attenzione erano delle finestre quindi il discorso della finestra come passaggio tra l'individuo e la comunità e è nato lui come speranza di qualcosa di bello e nuovo abbiamo cominciato ad ascoltare i luoghi ed è per quello che a noi ci ispirava tantissimo vedere Santa Maria in Pantano che ha rappresentato per secoli un luogo importante anche perché proprio in una via nella famosa via dei Mietitori quindi una via di passaggio molto transitata sono andata un po' alla ricerca delle tradizioni sonore ho potuto avere materiale importante dall'associazione Alberi di Maggio ho cercato di rielaborare un canto in particolare che mi è molto piaciuto è un canto a mietere partire da quello per andare a sonorizzare la performance di Cecilia e Guillermo che invece si muove su un piano più fisico abbiamo scoperto che la campana di questa chiesa è giù nel paese per me è forte quando mi hanno detto l'abbiamo voluta tenere qui non abbiamo voluto che andasse via quindi è un simbolo siamo attratti da questa campana e questa campana in qualche modo farà lo spettacolo è un simbolo Rebelliiano istrino, profetiano Ibu Sant'Arioli Questa campana è lì, a balzo, ma è ferma, quindi perché non dare valore al presente? Facciamola suonare oggi Anche in questo caso devo dire che le emozioni Nel corso delle performance sono state molto forti E il coinvolgimento dei cittadini è stato veramente profondo Ringrazio quindi nuovamente gli artisti Cecilia, Guillermo, Serena e Sara Che hanno permesso la realizzazione Anche un po' forse di un sogno dell'intera comunità E per ricordare anche quello che è successo Le emozioni che in quel momento abbiamo vissuto Ecco, noi anche Federica, Federica Pesce Che è una nostra collega In veste qui non solo di collega e di amica Ma anche di pubblico In rappresentanza del pubblico Per raccontarci qual è stata la percezione Anche di chi è venuto da fuori, Montegallo Chi è arrivato lì e si è calato direttamente In quella situazione, in quella realtà Io ho avuto l'onore di assistere alla performance di Montegallo Siamo arrivati nel pomeriggio Abbiamo parcheggiato la macchina E salendo questa strada C'è stata la comunità del luogo che ci ha accolto Devo dire è stato straordinario Come gli artisti abbiano colto l'elemento identitario del luogo E non solo restituito un'opera all'arte Ma anche proprio, diciamo Effettuato una performance con e per la comunità Ecco, quando l'arte coglie, diciamo, queste sfumature Arriva nel cuore delle persone E coglie proprio nel segno Devo dire che è stata un'emozione enorme Vedere la campana risuonare Più di una persona piangeva di fronte a questo spettacolo E' stato bellissimo anche convolgere le persone Vedere convolgere le persone che storicamente suonavano le campane Quindi ridare anche una identità al luogo e al momento stesso Quindi mi auguro che in un futuro Invasioni possa in questo senso Continuare sempre a lavorare non solo per la comunità Ma proprio con la comunità E mettere insieme quindi la presenza Ma anche la possibilità capillare Che stiamo vedendo oggigiorno Di arrivare nelle case di moltissime persone Esatto, grazie mille Federica Come abbiamo già visto in questi primi video In queste prime esplorazioni Il dialogo con i territori e con le persone È davvero la base di tutte le performance E di tutti gli elementi di invasioni contemporanee Quindi tutti noi ci auguriamo che questa sia una costante Anzi lavoreremo per questo E continuiamo con Grazie Federica Grazie a voi Grazie Fede Continuiamo ascoltando i nostri esperti Con un nuovo gruppo Che apre questa volta la riflessione A partire da esempi di altri festival E altri interventi rigenerativi In diversi luoghi d'Italia La rovina è il processo speculare Rispetto all'architettura Che è l'elevazione verso l'alto Mentre la rovina è spinta verso il basso Data dalla natura È quindi un processo inverso al progetto Per opporsi alla rovina Occorre più progetto Lo aveva detto in un caustico articolo Anche Francesco Merlo all'indomani della scomparsa Il senatore Corrau Che ha messo in piedi la grande operazione di Gibellina Museo a cielo aperto Merlo diceva anche La rovina può andare in rovina Allora forse compito di invasioni contemporanee per la religione urbana È quello di mettere insieme queste monadi sparse sul territorio Questa polvere sul territorio E farne un edificio nuovo Attraverso l'arte Che è potente in queste operazioni Ed è un altro compito Quello di riunire i frammenti Per ricostruire una storia Lo facciamo anche attraverso La rete museale naturale Belicina Di cui sono direttore Di cui vi parlerà Giuseppe Maiorana Ciao a tutti Grazie per l'invito Sono Giuseppe Maiorana Presidente della rete museale naturale Belicina Scopo della rete È valorizzare il ricchissimo patrimonio storico artistico E contemporaneo Che è presente in questa valle Che è stata vittima nel 68 Da un violento e devastante terremoto L'idea è quella di operare Per un vasto museo del territorio del Belice Che a partire dalle singole istituzioni Permette di dare una lettura continua Della storia del patrimonio culturale In questo territorio Nascono diversi festival E diverse realtà culturali Ed è in questo territorio Che la rete Oltre a farsi promotore Di nuove narrazioni Per meglio vivere e leggere questa valle Promuove l'educazione per i beni comuni E per la bellezza Oggi i nostri luoghi Soprattutto i piccoli territori Hanno molto bisogno di essere rigenerati Ma la rigenerazione Deve partire innanzitutto dalle persone È per questo che Mi piace raccontare l'esperienza Di tantissimi giovani Che grazie a questa dimensione di possibilità Hanno deciso di rimanere Nel proprio territorio Uno fra tutti Carmelo Nicotra Che un giorno Ha creato questo brand Che si chiama Scocche Un giorno è venuto da me Dicendo che sono disperato Sono costretto Ad aprire partita IVA E questo è l'augurio Che possa fare a tutti Di rigenerare i propri territori Riabitandoli Vivendoli E amandoli Per i piccoli comuni Soprattutto quelli che stanno Nelle zone interne Più difficilmente raggiungibili Più segnate dallo spopolamento E anche a volte più povere I festival Sono un modo Per ottenere diversi risultati Per esempio farne parlare Sui mass media Sui giornali Attrarre un turismo intelligente Interessato ai valori ambientali Storico-culturali Dei paesi Ma anche Sono un modo Quando vengono fatti bene Di riattivare Una serie di dinamiche Interne alla comunità Questi festival Vengono fatti Molto bene In maniera molto intelligente Oserei dire anche raffinata Come nel caso Di cui stiamo parlando Questo risultato si ottiene meglio E anche il programma Che viene proposto Le cose che sono state fatte Negli ultimi anni Il programma che viene proposto Pur nei limiti Degli effetti Diciamo del coronavirus Mi pare che vada In questa direzione Quindi io faccio I miei migliori auguri E al festival L'invasione contemporanea E spero di poter Presto essere con voi Io mi volevo soffermare Su due parole Uno è partecipazione E l'altro è semina Questi progetti Sono davvero molto Molto importanti Per ricostruire Legami sociali E promuovere Partecipazione Territoriale Sappiamo benissimo Che in tanti territori In tanti luoghi In tanti quartieri Questo è uno Dei principali problemi Della contemporaneità Ovviamente Quando si parla Di partecipazione Diciamo Si fa anche Un po' di fatica A capire Quanto Nel momento in cui Il progetto finisce Rimane Sul territorio Rispetto a Delle forme Che possono poi Continuare nel tempo E continuare Il dialogo Tra diversi attori E il territorio Compresi Appunto Gli artisti Da questo punto di vista Ecco la seconda parola La semina Credo sia Altrettanto fondamentale Ovviamente Su questo Bisognerebbe investire Tempo Bisognerebbe investire Risorse Bisognerebbe avere Dei progetti Almeno triennari Per capire Quanto Riusciamo a Lasciare Sul territorio E quanto Gli artisti Dalla loro Visuale Anche un po' Obliqua Un po' Estranea Alle dinamiche Territoriali Riescono A diventare Dei facilitatori Che non Possono essere Però Dei semplificatori Perché le stratificazioni Anche territoriali Sono talmente tante Sono anche talmente Importanti Che ovviamente Il ruolo Di chi Fa L'operatore Culturale E promuove Questi progetti Di interfaccia Tra popolazione Istituzioni locali E artisti È davvero Molto importante Quindi io Vi lascio Diciamo Con questo paio Di parole Di riflessioni E spero Di potervi Incontrare Di nuovo Magari dal vivo Al festival Invasioni Contemporane Prossimi Grazie Il Psycroc Festival Nasce 23 anni fa In un'area interna Siciliana E nello specifico Nel parco delle Madonie A Castelbuono Nasce in un periodo In cui Questo tipo Di intrattenimento Per l'Italia Era una vera e propria rarità Oggi Il Psycroc È una realtà Molto complessa E la gestione Di questa complessità Presuppone La presenza In produzione Di professionisti Del settore Di altissimo livello Per questo Riteniamo necessario Per la sostenibilità Futura Della nostra manifestazione La formazione Di professionisti Dell'intrattenimento Sul territorio Un altro elemento Che riteniamo centrale Per la sostenibilità Futura Del nostro festival È l'inclusività Il Psycroc Nei prossimi anni Diventerà Sempre più Una manifestazione Per tutti Mi chiamo Paola Charbonnier E collaboro Col Museo Dell'immigrazione Dei Piemontesi Nel mondo Questa campana Mi ricorda I vostri video Che ho visto Relativi alla passata edizione Come potete vedere Alle mie spalle Qui la natura domina Abbiamo un territorio Ricco di storia Di cultura E abbiamo anche Queste borgate Sparse Mi nonna usava dire Che in ogni borgata Parlavano un linguaggio O una lingua Un patois diverso I musei Si pongono Le istituzioni culturali Anche come una specie Di faro Nei momenti Delle avversità Creando una sorta Di catalizzazione Anche per le comunità Vi auguro Un grandissimo In bocca al lupo E come ha detto Luca Motto Che è il direttore artistico Di un festival Di arte contemporanea Che si terrà Nei prossimi giorni A Torre E il momento Del movimento E della rinascita Anche in un certo senso Per condividere Tutta la bellezza Che abbiamo intorno E che può sconfiggere Le nostre avversità Attraverso la cultura Grazie mille E in bocca al lupo Da tutto lo staff Eccoci Molto interessante La condivisione Di altre esperienze Di altri festival Di esempi Di rigenerazione creativa Prima parlavamo Di dialogo Il dialogo Tra gli artisti E la comunità Ma anche il dialogo Tra altre organizzazioni Altri festival Perché fare rete Creare dei network Solidi E sicuramente Un elemento Di sostenibilità Anche per piccoli festival Come il nostro Insomma Per chiudere Questa sezione Dedicata a Montegallo Vogliamo invece Ancora una volta Dare la parola A chi ha partecipato All'edizione precedente E chi quindi ha avuto modo Di essere parte Di quella turbine Di emozioni Che abbiamo vissuto Nel corso Della prima edizione E per questo Salutiamo Montegallo Con un altro Piccolo contributo video Realizzato Grazie a due Sostenitori Del festival Che sono Silvia Morganti Alberto De Angelis Che Rivivano In un certo senso Quella che è stata L'esperienza Dell'anno scorso Questa è un'edizione Digitale Del festival Invasioni Contemporane E qualcosa di simile Succederà Vedrete Anche In questi In questi video Ricordi Nostalgia Speranza Grazie Emozioni Contemporanee Se tornate in paese Questi giorni Non troverete più Nessuna traccia Nessun segnale Nessun cartello Del passaggio Di invasioni Contemporanee Dell'anno scorso Tuttavia Ci sono tornato Con un registratorino Perché Ero convinto Di poter Riascoltare Quel suono Che ci ha Profondamente Emozionato E questo È quel suono Nessun segnale Nessun segnale Emozioni Nessun segnale Emozioni Nessun segnale Eccoci, è ancora bellissimo sentire il rintocco della campana. Penso che per tutti noi che ci siamo stati, ormai ogni campana è un'emozione. Adesso invece ci spostiamo sul terzo territorio, che è Acqua Santa Terme. Come dice il nome, è una località termale immersa nel verde, ma anche circondata dalle cave di travertino. Il travertino è un materiale tipico del territorio del Piceno ed è parte integrante di tutta quella che è le piazze, i palazzi. Quindi chiunque venga a visitare il Piceno lo comincia a riconoscere come un elemento caratterizzante. Proprio in una cave di travertino, il comune, in particolare l'assessore alla cultura Elisa Ionni, ci ha proposto di realizzare l'invasione contemporanea. In questo caso si trattava di una performance musicale, creata appositamente per Acqua Santa, anche grazie al fatto che Acqua Santa è una terra di musicisti, come scoprirete nel prossimo video, che è quello di Andrea Giancarli di nuovo, che ci racconta l'invasione contemporanea di Acqua Santa lo scorso anno. Cosa ha significato e cosa significa invasioni contemporanee per Acqua Santa Terme? Beh, difficile dirlo a parole perché è sicuramente stata un'esperienza grandiosa. Grandiosa perché il territorio per alcuni giorni si è appunto letteralmente trovato invaso di artisti che non solo portavano al territorio il proprio contributo musicale del nostro caso, ma si sono divertiti a calarsi proprio nei panni del cittadino acquasantano, cercare di capire quali erano le emozioni, le abitudini, gli usi, e soprattutto cercare anche di capire ciò che ad Acqua Santa era successo insomma qualche tempo prima a seguito poi di quelli che conosciamo tutti come insomma i più disastrosi eventi sismici degli ultimi anni. Ma invasioni contemporanea è stato un toccasana, un toccasana perché si è vissuto per alcuni giorni, si è vissuto un'atmosfera diversa che poi si è insomma concentrata ed è culminata in un concerto finale, un evento finale presso la Cava Canestrini, una cava di smessa che appunto abbiamo da qualche tempo messo a disposizione per eventi di questo tipo. Se dovessi un po' riassumere questa esperienza, direi che è stata un'esperienza magica, è un'esperienza di pura bellezza, quindi forse magia e bellezza sono un po' gli aggettivi e termini che più rappresentano ciò che è stato per noi il festival, col quale insomma speriamo di riuscire a collaborare ancora per diverso tempo, perché si deve assolutamente pensare di portare avanti manifestazioni che in un qualche modo riescano a lasciare veramente emozioni nel cuore e nelle persone che in quel momento si trovano a poterle vivere. L'azzurro, il verde e il grigio che rappresentano quello che più abbiamo amato e ammirato di questo territorio, il blu dell'acqua, l'acqua santa con le sue acque termali, i suoi torrenti. Il verde per la natura lussureggiante che ci ha ispirato moltissimo, il grigio del travertino che vediamo in questa cava con tutte le sue sfumature, dal bianco, il giallo, il nero delle ossidazioni e anche dell'architettura di tutti questi paesi, di queste frazioni, una più bella dell'altra. Il progetto sicuramente ha preso un grosso slancio nel momento stesso in cui siamo entrati in questo luogo per la prima volta, attraverso il sentiero che porta qua sulla collina. La musica può risvegliare l'amore per la propria terra perché magari in questo caso qualche persona non aveva mai visto questa cava, non aveva mai passeggiato qui intorno e quindi scoprire che intorno a casa c'è un luogo magico in cui io vorrei tanto trasferirmi. E poi poco a poco ha cominciato ad acquisire una fisionomia durante la residenza, anche e soprattutto entrando in contatto con delle persone del luogo, dei musicisti principalmente, la banda che avrete modo di sentire anche in collaborazione con noi. Crediamo innanzitutto che la nostra musica possa crescere molto in contatto con nuovi territori. Sì. L'ensemble, il collettivo, è specializzato proprio in eventi site specifici, quindi i nostri repertori traggono sempre ispirazione dal luogo dove vengono portati in scena. Sì. 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 A presto. A presto. Grazie Anna, Tania e Valentina che avete potuto sentire anche se brevemente in questo ricordo. Stavamo giusto commentando quanto sia forte tutto quello che arriva da loro, anche inaspettato, perché riescono a creare qualcosa di completamente nuovo musicalmente. Sono tre bellissime vestite con questi abiti stupendi, angeliche e devo dire che la cava è stata un'emozione veramente forte. Per noi poi era l'ultima delle tappe dell'anno scorso, c'erano tantissimi degli altri artisti che chiaramente avevano già fatto spettacolo le sere precedenti, è stato il nostro momento catartico, con tutta la popolazione di Acqua Santa che ci raggiunse portando anche da bere e da mangiare. Fu veramente un momento forte di convivio, di chiusura di questa esperienza, quindi è veramente bello ricordarlo. E sempre parlando proprio del fatto che in questo caso si è rigenerata una cava al travertino, quindi se andiamo proprio ad incidere anche su luoghi che non vengono utilizzati per la cultura, abbiamo sentito prima moltissime esperienze di festival che come invasioni ragionano sulla rigenerazione delle aree interne. Come già nominato in uno degli interventi in realtà, per riuscire in questo tipo di progetti ci sono anche know-how specifici per tutti i gruppi, team di progetto sia artistici che manageriali che ci lavorano. E questo è il tema del nostro terzo gruppo di esperti che ci danno infatti proprio dei suggerimenti pratici per la rigenerazione creativa delle aree interne. Il progettista riconosce e valorizza le domande complesse che arrivano dal territorio, le connessioni latenti o esistenti, le emergenze, i segnali deboli, insomma la forza del contesto e della sua armatura culturale e sociale anche se resa fragile dalle circostanze. E lavorando su quello che c'è diventa un baricentro di convergenza e di mediazione. Il progettista deve essere qualcosa a metà tra il dinamitardo e l'artificiere, che voglio dire che deve saper praticare degli inneschi, deve saper dare vita a delle scintille e poi infondere delle direzioni di senso a quanto acceso, rendendo una sorta di propellente del lavoro che si è fatto e quindi liberando un'energia nuova, possibilmente sostenibile. Grazie e buon festival a tutti. Un saluto alle amiche e agli amici del Festival Invasioni Contemporanea 2020 e un ringraziamento per avermi chiesto di essere parte di questo importante momento per il territorio. Quali sono le competenze che non possono mancare per chi si occupa di rigenerazione urbana a base culturale e creativa? Questa domanda mi è stata posta perché lo scorso anno ho curato per la casa editrice Pacini un libro che si intitola Il ritorno a casa degli Ulissi. Un racconto di 11 storie, di 11 realtà, che attraverso la trasformazione dei territori, dei luoghi e delle comunità che questi territori abitano, fanno la loro ragione di vita personale e professionale. Le competenze che vengono messe in luce nel corso delle 11 storie sono chiaramente tante. Vorrei citarne qui alcune che possono essere utili per ragionare attorno anche al tema del Festival. La prima è sicuramente l'ascolto del territorio, cioè questa capacità di lavorare con il territorio non con una meta predefinita, non con un prodotto che si ha già in testa, ma ascoltando il territorio, ascoltando l'anima di un territorio, il proprio senso, il proprio ritmo e nel corso del processo costruire la meta, se una meta deve esserci. La seconda competenza è certamente una competenza di tipo relazionale, quindi la capacità di entrare in contatto con le singolarità di un territorio, con le singole persone di un territorio, con le loro storie, e attraverso le singole storie avere la capacità poi di tessere un racconto univoco, un racconto unitario. La terza competenza è una competenza alla quale io sono particolarmente affezionato e che riguarda in particolare lo sviluppo dei territori ed è quella che tecnicamente si chiama governance multilivello, ovvero la capacità di tenere nel corso dello sviluppo del progetto assieme tutti i soggetti del territorio. Quindi non parliamo solo dei protagonisti veri, che sono poi i protagonisti della comunità, le persone singole, ma anche le associazioni, le organizzazioni che animano la vita di un territorio, fino ad arrivare agli enti pubblici di diverso livello, quindi che sia un comune, una provincia o una regione. Cioè avere la capacità di creare una visione per un territorio e per una comunità che possa appartenere a tutti. E questa forse è la competenza più difficile da ottenere, ma che più caratterizza il lavoro di rigenerazione urbana a base culturale e creativa. Grazie mille e buon festival a tutte e a tutte. A partire dall'inizio delle nostre attività, il lavoro in rete e il partenariato è stata una delle caratteristiche del modo in cui lavoriamo. Abbiamo iniziato a lavorare in rete con soggetti a noi più prossimi per poi spostarci sul livello europeo, quindi di rete e partenariato a livello europeo. Sono quindi direi ormai più di vent'anni che lavoriamo in questa modalità, che è una modalità che è molto nelle nostre corde, che ci piace molto, perché la rete, fare rete, significa comunque imparare gli uni dagli altri, significa potenziare le proprie capacità, significa migliorare, significa acquisire delle competenze anche specifiche, perché lavorare in partenariato non è facile, non è una situazione naturale, quindi implica uno sforzo, implica la volontà di trovare delle convergenze, ma è direi l'unico modo per riuscire a realizzare progetti di ampio respiro e progetti transettoriali e trasversali, che è un'altra delle nostre priorità. La nostra esperienza nei progetti di rigenerazione urbana nel tempo è cresciuta ed è diventata molto eterogenea. Con Green Roots abbiamo avuto la possibilità di lavorare su Taranto e di mettere in campo tutta una serie di processi che richiedono sicuramente una prima fase di ascolto, dei tempi lunghi per lavorare con le comunità e il loro coinvolgimento. Per farlo abbiamo invitato gli artisti a lavorare con noi su una fase di coinvolgimento attivo che prevedesse anche una partecipazione diretta ai processi creativi. Il lavoro è stato fatto in sinergia anche con le diverse organizzazioni e istituzioni culturali presenti sul territorio per favorire delle zone di contatto e di relazione che potessero in qualche modo riavvicinare le comunità a prendersi cura della loro città e di lavorare insieme sulla costruzione di una visione collettiva di comunità. Quando si decide di insediarsi in un territorio è importante entrare in punta di piedi, è importante stare in ascolto rispetto alle esigenze del territorio, rispetto ai cambiamenti che il territorio subisce. Questo ci mi permetterà sicuramente di sviluppare progettualità efficaci, modulari e osmotiche in grado di rispondere in modo puntuale alle esigenze che abbiamo intercettato e in grado di coinvolgere in maniera attiva la cittadinanza alla quale vogliamo riferirci. Grazie a tutti. Adesso arriviamo all'oggi, infatti anche se questa è un'edizione digitale abbiamo deciso di dare un piccolo segno comunque fisico e reale in tutti i territori che avete visto e anche nei successivi due che dovete ancora vedere. Sono stati dei manifesti creati dagli artisti sempre nella forma del dono, quindi tutti gli artisti coinvolti si sono raggruppati a seconda dei singoli territori e hanno fatto una creazione originale che abbiamo stampato e consegnato di persona nei vari territori. Tutto questo è stato ripreso dal nostro sempre mitico Andrea Giancarli e quindi andiamo a vedere che cos'è successo. Oggi consegniamo le locandine manifesti fatte dagli artisti in ricordo delle performance dello stesso anno. Invasioni contemporane! Prima tappa, a prima tappa. Prima tappa, a prima tappa. Grazie. E questa volta siamo a Montaglio. Bellissima! Sempre presenti! E' stato un bel giro! È stato un bel giro, è stato molto bello tornare a salutare tutti, perché chiaramente non ci si era visti in tutti questi mesi, è stato bello ritrovare le persone e anche ritrovare i luoghi, devo dire, è stato molto emozionante e anche se sapevamo che sarebbe stata un'edizione digitale, anche con la nostra piccola presenza abbiamo sentito il legame che c'è ancora fra il Festival e il territorio. Diciamo che ci siamo un po' riconnesse alla fisicità dei luoghi, anche se siamo a distanza, e che ci sono convinti di più che dobbiamo continuare e tornare il più presto possibile. E adesso volevamo vedere, farvi vedere i manifesti nel dettaglio, sono stati realizzati dagli artisti che hanno partecipato all'edizione dello scorso anno. Camminiamo insieme è quello di Arquata, e ovviamente il suo tema è il futuro, che è il tema che gli artisti di Arquata hanno scelto come light motive di tutta la performance dello scorso anno. L'idea che invece che guardare a quello che di brutto poteva essere accaduto, concentrarsi sulla costruzione del futuro. Quindi viene proprio fatto una piccola citazione, il futuro per tutti è cambiare direzione, comprendere che non siamo gli unici a essere sul pianeta e imparare a camminare insieme. Andiamo al secondo. Qui di suona di bellezza la campana, che come ormai avrete capito è stato l'assoluto simbolo di Montegallo. Questa è la cava e il momento vero e proprio del concerto, con anche le bellissime luci che aveva fatto Pietro Cardarelli. E con la collaborazione anche degli scenografi della Cassina di Belarti di Macerata. Tactus, non vi faccio troppo spoiler, ma è proprio un diretto riferimento al battito vivente del cuore e del sangue delle persone. Si riferisce alla performance di Ofida. Mentre questo è un'immagine che anche in questo caso non vi voglio spoilerare, che arriva da Castignano e il suo leitmotiv è stato lo sguardo verso un infinito e un futuro. Eccoci qui. Ok, allora ho un momento di passare a Ofida. Sì, passiamo a un altro territorio, un'altra bellissima performance. Qualcosa avete visto e intravisto attraverso il manifesto. Giustamente Cristina non ha svelato troppo, perché come al solito faremo parlare i bellissimi video di Andrea Giancarli, che veramente credo riescano a restituire anche le emozioni che sono state provate anche da noi, ma non solo, anche dai cittadini dei paesi che abbiamo invaso. Adesso siamo a Ofida, un bellissimo centro tra i borghi più belli d'Italia, nella sua stupenda piazza del popolo. Partiamo subito con il video. Anche qui un saluto dell'assessore alla cultura Isabella Posano aprirà il ricordo dell'anno scorso con un saluto a cui teneva molto. Invasioni Contemporanee quest'anno assume una veste diversa. Ci sarà una diretta Facebook che invito tutti a seguire, dove si riviverà quello che è stato Invasioni Contemporanee nel 2019. Un progetto meraviglioso che ha visto ad Ofida, nello specifico artisti, vivere il territorio, per poi realizzare lo spettacolo che andò in scena il 26 luglio scorso, nella nostra meravigliosa cornice di Piazza del Popolo, attraverso uno spettacolo che ha unito davvero arte, cultura, danza, musica e il territorio fidano. Mi auguro per il 2021 che si torni di nuovo in scena e si torni a parlare del territorio. Invasioni Contemporanee è stata una bella provocazione per arrivare in un posto che aveva molte più storie da raccontare di quanto noi potevamo immaginarci. È stata un'opportunità di far interagire l'interiorità con la geografia circostante, in particolare nel nostro caso Ofida. Questi territori ci hanno dato molto. Ricordo di una fontana, una fontana antipaese, di quelle di una volta, non che fosse bella, era semplice. Personalmente è un progetto che ricorderò soprattutto per le conversazioni che ho avuto con le persone, questo è stato molto bello. Gli artisti contemporanei ci mettono un sacco di tempo prima di decidere di contaminare le loro competenze, le loro arti. Poetiche, linguaggi. Questo progetto invece nel sopralluogo ci ha fatto incontrare davanti a un tavolo di fronte a delle persone con abbondanti litri di vino. Ci siamo scelti in 24 ore. Quindi la contaminazione innanzitutto fra di noi, quindi con altri artisti. Noi lavoriamo con Musica Manes di Torino. E... Questo è un tocco di teatro in un市I. Anche posso chiedere a un'epocazione di Rhido. Quindi ricavi dei singoli frammenti musicali, esatto, delle unità, dei fonemi dal continuo a piano, poi in modo da ridisporli, di creare un'altra cosa. Vorrei stressare un po' l'orchestro per farlo diventare qualcosa di diverso, integrato con la scrittura corea. E' un concerto. Abbiamo fatto delle prove, abbiamo anche dei video a Torino sulle possibilità che hanno l'orchestra di suonare a Doriati per terra, ad esempio, o a distanza. Nel Rinascimento, per prendere tempo musicale, si prendeva la pulsazione del cuore. Tactus in musica è il modo in cui si intende la battuta, cioè la pulsazione. La mente non riconosce il frammento, lo guarda ancora e ancora e ancora, finché vede e trova. Un luogo intero. Grazie a questi posti, perché credo che abbia raggiunto la nostra poetica più di quello che noi abbiamo aggiunto. Quello che avete visto esternamente voi l'avete trovato anche riverberato nel vostro proprio polso e questo è l'auspicio ed è un messaggio che vogliamo lasciare a questa bellissima città. Eccoci, ed eccoci di nuovo, ecco svelato il famoso Tactus che avete letto sul manifesto, no? Il modo in cui musica si misura, si nomina il battito cardiaco e questo cuore che batteva forte, in quella piazza, quella sera quando siamo arrivati. La contaminazione è stata una delle, ed è una delle caratteristiche di invasioni contemporanee. In questa performance ad Offida in modo particolare hanno collaborato artisti davvero di alto livello che ringraziamo e hanno saputo dialogare e far dialogare linguaggi differenti, quello della danza contemporanea e quello della musica. La compagnia Saint-Papier con l'orchestra musica Mannens. Il risultato, come avete potuto vedere, è stato davvero di effetto. Per me la cosa che ricordo, per noi, è stata anche un po' la sensazione che quella visione che avevamo avuto nel momento in cui abbiamo immaginato invasioni potesse in quel momento essersi realizzata, no? Lucio Argano prima parlava di accendere scintille e liberare energie sui territori. Noi speriamo che Invasioni abbia prodotto questo. Io credo che un po' ci sia riuscito perché gli artisti hanno riempito le piazze, le vie e davvero i cittadini hanno potuto vivere delle invasioni artistiche pacifiche, ovviamente, e ne hanno potuto godere, hanno potuto ovviamente in qualche modo far emozionarsi e disperdere anche nuove energie. E questo credo che sia davvero un bel risultato del festival che speriamo di riproporre anche nelle prossime edizioni. Non a caso abbiamo voluto coinvolgere anche per offida un cittadino che ovviamente ha voluto parlare di invasioni con uno sguardo anche verso il futuro. Quindi ringraziamo Domenico Capponi di cui vediamo il video. Ciao a tutti. Allora, che cos'è per me Invasioni Contemporanee? Ma Invasioni Contemporanee per me è l'esempio concreto di come sostanzialmente una visione, come in questo caso una visione creativa, possa tracciare un percorso nuovo all'interno di un territorio duramente colpito dal terremoto del 2016 come quello Piceno. Io penso che dopo un evento così traumatico chiaramente un territorio debba ripensarsi e due sono le possibilità poi di ripensarsi. La prima è quella di cercare di ripercorrere nuovamente, di ricreare nuovamente le strade che c'erano. L'altra è quella di tracciare appunto nuove possibili strade. Ecco, in Invasioni Contemporanee io ho visto, vedo e sono convinto che vedrò questo tentativo, questa volontà di tracciare con linguaggi appunto creativi nuove strade. Ciao a tutti. Ringraziamo Domenico e chiudiamo questa sessione su Offida con una produzione nuova di Invasioni 2020, quindi non un video che ricorda o ripercorre ciò che è stato l'anno scorso, ma davvero una produzione realizzata dagli scenografi dell'Accademia di Belle Arti di Macerata, che anche l'anno scorso nell'edizione 2019 sono stati fondamentali per la realizzazione delle performance degli artisti e che hanno voluto dare il loro contributo anche per questa edizione digitale. Quindi adesso vedremo il loro lavoro realizzato in collaborazione con Serena Abrami e Andrea Giancarli e a seguire il video, una performance di professore artista Luigi Pagliarini che ci racconta di un esperimento di arte corale realizzato durante il periodo di lockdown con gli allievi, i ragazzi dell'Accademia sempre di Belle Arti di Macerata nella quale insegna. Quindi vediamo questi video. Grazie a tutti. 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 e a tutti. e a tutti. Grazie 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 a tutti. tutti gli esperti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.